Francesco, ancora tre domande. La prima, il grande impegno politico ti ha portato ultimamente a protestare contro alcune cose che ti sembrano assurde, per esempio i doppi incarichi in politica, i politicanti che sono per esempio presenti in provincia, che sono anche deputati o sindaci e quant'altro. Hai detto irregolare e si è andato proprio dal prefetto a denunciare questo. Sì, io voglio dire, secondo me esiste una questione giuridica, cioè che la Corte Costituzionale ha detto che i parlamentari non possono contemporaneamente svolgere altre funzioni amministrative, tipo presidenti di provincia, sindaci o assessori. Esiste una questione morale che veramente danno l'idea di avere dei retani che non riescono a soddisfare in alcun modo, perché non riesco a comprendere come è possibile che ad esempio il presidente della provincia di Salerno faccia contemporaneamente il presidente della provincia. Il deputato è addirittura il presidente della commissione difesa alla Camera. Zinzi dell'Udc, presidente della provincia, deputato e fino a qualche tempo fa prendeva anche l'indennità da ex consigliere regionale, uno scandalo, cioè gente che guadagna 20, 30, 40 mila euro, mentre noi siamo in difficoltà tutti quanti. Veramente mi sembra una cosa di una vergogna assoluta. Io la penso in questo modo, al di là delle leggi, perché dovrebbe essere anche gli uomini e i politici ad autoregolamentarsi, ti voglio far capire come la penso io. Io addirittura quando fui eletto consigliere di amministrazione, ero consigliere di facoltà. Io per non avere... consigliere di facoltà non è un incarico retribuito, potevo tranquillamente rimanere e avere il doppio incarico e rinunciai. Perché mi sembrava la cosa più normale, che se devo fare il consigliere di amministrazione non devo fare contemporaneamente il consigliere di facoltà. Figuriamoci cosa posso pensare di Gigino Cesaro, detto a porpetta, che fa il segretario provinciale della PDL, il deputato e il presidente di provincia. Male, secondo me. C'è spazio per i giovani, secondo te, in politica o restano sempre i soliti noti a comandare? Gli spazi vanno presi con la forza, secondo me, politicamente parlando. Io sono orgoglioso di una cosa. Alle ultime elezioni comunali quasi tutti gli eletti dei Verdi, sia alle municipalità di Napoli sia in provincia, hanno l'età media di 23-24 anni. Non che manchino delle persone più grandi. Però io sono orgoglioso di aver fatto un lavoro per cui oggi una parte consistente della classe dirigente dei Verdi, degli ecologisti e delle liste civiche è composta da ragazzi e ragazze che stanno facendo una grande esperienza e che sono certo rappresenteranno una grande sorpresa elettorale nei prossimi anni. Francesco, trovi giusta la legge elettorale che con 300 voti porta addirittura nelle liste che appoggiano il sindaco delle persone che non sanno molto di politica a fare i consiglieri comunali? Lasciando fuori magari persone che con 2500 voti, penso per esempio all'euro impegno, non sono riusciti ad entrare in consiglio. Ma quella è una stortura. Voglio dire, noi con 4500 voti non abbiamo preso consiglieri comunali e liste con meno voti di noi le hanno prese perché erano apparentate col sindaco. Però io penso che la legge attuale sui sindaci, sui presidenti delle province e sui presidenti della regione sono buone leggi, vanno fatte delle piccole modifiche, però oggettivamente hanno permesso la governabilità nel bene o nel male negli ultimi anni. Quella che va assolutamente cambiata è invece la legge elettorale alla Camera e al Senato che è vergognosa, liste bloccate, gente impreparata per non dire altro, che va a occupare questi posti e che perde proprio il rapporto col territorio. Oggi la gran parte dei cittadini non sa più chi è il deputato e chi si interessa dei problemi del territorio. Prova ne è che alla fine vengono considerate tutta casta, mentre invece la politica è una cosa nobile e non va soltanto identificata con la casta. Qual è il futuro dei Verdi? Il futuro dei Verdi è un'alleanza nel centro-sinistra e presentarsi alle politiche e alle prossime elezioni in una grande forza ecologista. Se lo faranno, se lo faremo, io sono convinto che una parte dei cittadini, quelli che oltre 20.000 hanno votato alle ultime primarie per il nuovo simbolo, ci premeranno e ci permetteranno non solo di rientrare in Parlamento, ma di dare grandi sorprese e grandi benefici al Paese. E qual è il futuro di Francesco Borrelli? Il futuro mio è sicuramente da giornalista, poi sicuramente continuo a fare la politica, ma la politica per me è una passione innanzitutto e non è un lavoro. E quindi se il destino mi riserverà la fortuna di poter ricoprire altre incariche istituzionali sarò contento, se no continuerò a battermi come ho sempre fatto e senza guadagnarci, che è una cosa molto importante. Fì qui, il commissario regionale dei Verdi Francesco Borrelli che ringrazio per questa intervista e naturalmente do appuntamento a tutti i nostri amici e telespettatori alle prossime interviste naturalmente firmate Italia Mia. A voi tutti buonasera. Salve a tutti. Salve a tutti. Salve a tutti.